Un tragico incidente ha scosso la comunità in Nuova Zelanda quando una madre, ignara della presenza del figlio, ha avviato il ciclo di lavaggio con esiti fatali. Prima di continuare ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti. Nel cuore di questa drammatica storia si è verificato un evento devastante. Un bambino si era nascosto nel cestello della lavatrice mentre giocava, senza che sua madre si rendesse conto. Il risultato di questa tragica incomprensione è stato il decesso del piccolo. La madre ha avviato la macchina senza alcuna consapevolezza della presenza del suo bambino all'interno del cestello. È solo al termine del programma di lavaggio che ha fatto la sconvolgente scoperta. Quando ha aperto la lavatrice per recuperare i panni, ha trovato il corpo inerte del suo figlio. In quell'istante, ogni speranza è svanita, lasciando la madre con un peso incolmabile sul cuore. Le autorità locali hanno prontamente avviato un'indagine per chiarire le circostanze di questa tragica morte, coinvolgendo un medico legale per esaminare attentamente la questione. L'ipotesi principale finora è che si sia trattato di un terribile incidente, ma resta un grande interrogativo su come la madre non si sia accorta della presenza del suo bambino al momento in cui ha caricato la lavatrice. Questa dolorosa vicenda ha scosso la comunità e richiama l'attenzione sull'importanza della sicurezza dei bambini nelle case. Un dramma che serve da amara lezione su quanto possa accadere quando la supervisione è insufficiente e quanto sia fondamentale prestare attenzione ai dettagli nella vita quotidiana.